A Giulianova, dopo circa 15 mesi, sono finalmente iniziati i lavori per la sostituzione delle torri faro al porto. Parliamo di un'opera infrastrutturale essenziale, utile per garantire la sicurezza di armatori e operatori ittici di tutti i frequentatori e lavoratori del porto, con l'obiettivo di restituire un'adeguata illuminazione nell'area portuale. Interventi che dovranno essere terminati per il 15 novembre. Ridiamo un po' di illuminazione, ridiamo un po' di vivibilità. Tutto questo però è frutto di un lavoro sinergico, un lavoro seguito dalla regione Abruzzo, dal comune di Giulianova, dall'Ente Porto e soprattutto dall'Arap, dove noi ci siamo ritrovati poi a dover regolamentare questa nuova situazione con un'apposita ordinanza. Un cronoprogramma che ci è stato presentato dalla ditta che eseguirà i lavori, è iniziato ieri e terminerà circa a metà novembre. Di massima saranno questi tempi per la sostituzione di 11 torri, cioè il reimpianto di 11 torri, la sostituzione di una dodicesima torre su 14 torri presenti in porto. Il ripristino avverrà secondo il seguente cronoprogramma. Le prime 11 torri faro verranno posizionate con cadenza giornaliera. Successivamente per le due rimaste in piedi verrà effettuata la sola sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a LED. Infine avverrà la rimozione e sostituzione ex novo della torre residua. Costo dei lavori circa 300 mila euro. Questo lavoro sinergico ha consentito di arrivare a una soluzione, seppur non in tempi brevi dovuti a circostanze sfavorevoli, però alla fine siamo arrivati alla soluzione del problema delle torri faro. Di pari passo insieme alle torri di faro partirà il cantiere per la realizzazione delle tettoie e dei box per la pesca sul Mononord e noi stiamo avviando entro settembre i lavori per le tettoie per la piccola pesca, una postazione di soccorso che probabilmente verrà gestita dalla Croce Rossa, l'installazione dei defibrillatori su tutto il porto e una linea di acqua di mare corrente per il lavaggio delle attrezzature da pesca.